Buongiorno, sono Paola Grilli dall'Italia, sono un architetto e sono coordinatrice della Scuola Edile di Piacenza. Sono qua con i miei allievi del corso per tecnici per la transizione ecologica appunto. Penso che la chiave per il tema della transizione ecologica sia quello di sensibilizzare il più gente possibile perché come ogni tema complesso è utile risolverlo con tante soluzioni semplici, quindi penso che ognuno debba prendersi la sua responsabilità e la chiave principale è appunto la presa di coscienza del momento in cui stiamo vivendo e l'acquisizione della conoscenza per applicare delle soluzioni semplici attraverso innanzitutto la formazione di tutti gli operatori che sono coinvolti nei vari processi produttivi e di tutti gli stakeholder ma anche della popolazione perché ciascuno nel suo piccolo può fare la differenza.